salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo ancora una volta su Genshin Impact oggi perché vi voglio portare delle piccole informazioni e delle news che riguarderanno ciò che verrà introdotto all'interno del gioco nella versione 1.2 oggi stesso è uscito un comunicato all'interno del sito ufficiale di Genshin Impact dove appunto gli sviluppatori hanno risposto a delle domande che sono state fatte da altri giocatori come abbiamo potuto notare gli sviluppatori di Genshin Impact sono molto attivi almeno personalmente parlando ho avuto il piacere e modo di poter comunicare con loro via mail diverse volte e devo ammettere che comunque nel momento in cui necessitavo delle risposte o necessitavo dei dubbi entro qualche ora ho sempre ricevuto le mie risposte quindi un grande applauso per gli sviluppatori o per chi si occupa per l'appunto di rispondere a tutte le domande che ogni volta i giocatori pongono diciamo agli sviluppatori stessi quindi veramente veramente un grande applauso cominciamo parlando delle prime novità che appunto verranno introdotte nella versione 1.2 andando a leggere e commentare insieme quelle che sono le domande e le risposte dei nostri sviluppatori la prima domanda chiede vorrei una sorta di chat privata in modo tale che con i miei amici si possa parlare prima di entrare nel loro mondo la risposta dei nostri amministratori è stata che una funzione di chat sarà introdotta nella versione 1.2 tutti quanti i giocatori che avranno sbloccato il sistema di friendship quindi il sistema comunque di amicizia all'interno del gioco avranno la possibilità di chattare con i loro amici all'interno del gioco e ci saranno ovviamente degli shortcut quindi ci saranno delle scorciatoie da poter premere tramite una combinazione di tasti proprio per aprire direttamente la chat senza dover fare tutto il giro del menu tra amici e poi aprire la chat tra l'altro quando un tuo amico sarà offline il messaggio verrà ricevuto istantaneamente nel momento in cui egli si collegherà all'interno del gioco quindi ottima novità questa soprattutto per tutte quelle volte che almeno a me è capitato di vedere la richiesta di diciamo le richieste di partecipazione della partita senza sapere chi fosse cioè bisognava ogni volta andare a cliccare vedere il nick se il nick corrispondeva a un tuo amico o comunque qualcuno che effettivamente conoscevi allora lo facevi entrare oppure joinavi nel suo mondo mentre invece così ci si può mettere d'accordo in modo tale che nel momento in cui si vede la richiesta di partecipazione si possa tranquillamente giocare e si può tranquillamente stare insieme senza evitare ogni volta perdite di tempo quindi questo è già è comunque un'ottima cosa seconda domanda che è stata posta i miei amici cambiano continuamente il loro nickname e io ogni volta non riesco a ricordare chi è chi vorrei poter sistemare questa cosa tramite delle notes quindi tramite degli appunti una sorta di appunti bene gli amministratori rispondono che nella versione 1.2 tutti i giocatori avranno la possibilità di scegliere un avatar per il proprio amico e mettere anche un nome all'interno di una nota quindi si avrà la possibilità di cambiare avatar e nickname mettiamo così di ogni nostro amico in modo tale da poterlo riconoscere ovviamente il nome che verrà mostrato all'interno del nostro profilo sarà solamente privato quindi lo potremo vedere soltanto noi e non andiamo a cambiare ovviamente in modo pubblico il nickname dei nostri amici e poi giustamente noi quando andremo a scorrere la lista degli amici andremo a vedere giustamente il nome che noi stessi gli abbiamo dato in modo tale da poter ricordare più facilmente chi è chi e quindi evitare comunque il problema che si era posto nella domanda anche questa potrebbe essere una cosa carina soprattutto per gli amici più intimi con il quale magari si condivide più spesso questo tipo di gioco in modo tale da poter restare più in contatto e in modo tale anche da evitare distrazioni ed evitare in generale altri tipi di problemi seconda pagina di domande dove nella terza domanda che abbiamo posto cioè che è stata posta ai nostri amministratori si chiede vorrei avere la possibilità di avere un pin che mi permetta di localizzare e tracciare la mia destinazione come appunto le quest con gli obiettivi ovvero il fatto di avere praticamente il fascio luminoso per terra che ci possa indicare il percorso da poter effettuare per raggiungere il nostro obiettivo in modo tale da non dover ripetutamente aprire la mappa e controllare effettivamente se stiamo percorrendo la strada giusta o no i nostri sviluppatori hanno risposto che stanno appunto più che altro gli amministratori hanno risposto che gli sviluppatori appunto del gioco stanno progettando di rilasciare appunto dei pin tracciabili all'interno della mappa in modo tale da poter piazzare il pin indicare la localizzazione del nostro obiettivo e poterla raggiungere tramite un obiettivo che possa essere la main quest le daily quest e comunque avere la possibilità di avere il percorso facilitato tutti i giocatori avranno la possibilità di selezionare il proprio pin personalizzato all'interno della mappa e scegliere se utilizzare la funzione di navigatore oppure no e però c'è un altro ovviamente giustamente c'è una sorta di bilanciamento della cosa perché potrà essere utilizzato soltanto un pin alla volta quindi nel momento in cui noi selezioniamo un pin selezioniamo un obiettivo che ci stiamo imponendo noi stessi potremo appunto sfruttarlo ma soltanto un alla volta quindi non possiamo piazzare più pin proprio per evitare comunque una confusione in generale di direzionamento della mappa che sembra essere praticamente un polipo quindi avremo la possibilità però di poter localizzare i nostri obiettivi un alla volta che penso sia comunque la scelta più giusta domanda numero 4 vorrei poter ripetere un dungeon senza doverlo lasciare e poi rientrare questo è veramente una delle cose che a me personalmente ha dato molto fastidio nel gioco perché ogni volta che devo farmare e ogni volta che devo fare praticamente i dungeon devo necessariamente uscire rientrare aspettare i caricamenti e quindi perdere comunque anche minuti preziosi bene i nostri amministratori rispondono che nella versione 1.2 i giocatori potranno direttamente ripetere il dungeon che hanno affrontato dentro il dungeon stesso quindi non bisognerà più uscire e rientrare per poter affrontare il dungeon questa è una cosa fenomenale finalmente si può farmare come se non ci fosse un domani soprattutto preparandosi magari qualche giorno prima o preparandosi la notte prima la resina condensata da utilizzare successivamente per poter andare a farmare all'interno dei dungeon e quindi finalmente evitare di perdere tempo con tutti quei maledetti caricamenti che ogni volta dovevano farti uscire e rientrare all'interno del dungeon quindi alleluia domanda numero 5 mi capita spesso di mancare il raccoglimento di alcuni drop presenti all'interno dei dungeon dovendoli raccogliere ovviamente manualmente diventa abbastanza inconveniente bene gli sviluppatori hanno risolto anche questo problema perché hanno promesso che nella versione 1.2 nel momento in cui noi accetteremo le ricompense e prenderemo le ricompense all'interno del dungeon verranno raccolte automaticamente e già messe nel tuo inventario quindi questa già è un'altra meccanica di quality of life chiamiamola così che ci permette di essere più veloci nel farming quindi prendiamo le ricompense sappiamo in un qualche modo di non mancarne nessuna e prenderle tutte in una volta e ricominciamo il giro quindi veramente veramente comodo non vedo l'ora che venga implementata questa cosa perché il farming soprattutto di alcuni artefatti mi sta letteralmente facendo impazzire sia perché non li riesco a beccare mai con delle statistiche decenti e sia perché ogni volta soprattutto purtroppo per me giocando su ps4 ho il problema comunque di avere dei caricamenti un po più lunghi avessi saputo che genshin impact mi avesse preso in questa maniera sicuramente l'avrei giocato su pc senza nessun dubbio spero che in futuro la mia domanda è questa che magari si possa collegare l'account ps4 a pc in modo tale da poter fare comunque uno switch anche magari fatto una volta ogni mese o comunque ripetibile una volta o massimo tre volte per account una cosa del genere lo apprezzerei veramente veramente tanto terza pagina di domande dove abbiamo la numero 6 vorrei un auto dialogue play button questo effettivamente soprattutto per chi magari non è stato coinvolto in maniera particolare all'interno della storia potrebbe risultare un pochino più difficile diciamo da digerire nel senso avere comunque un auto dialogue fa perdere parte della storia perché magari per distrazione o per premura si evitano o comunque si perdono dei passaggi che in realtà sono importanti anche per capire la funzionalità della storia devo ammettere che genshin impact ma questo ne parlerò in un video che sto letteralmente preparando da circa una settimana sto aspettando le ultime diciamo gli ultimi permessi tra virgolette perché prenderò delle clip anche da altre persone e quindi ho mandato delle richieste esplicite di poter utilizzare parte dei loro contenuti nei miei proprio per evitare problemi in generale con segnalazioni eccetera eccetera dove appunto parlerò anche di quella che è la trama e soprattutto parlerò anche di quello che è il gioco fondamentalmente nella sua storia principale quindi ci tenevo anche a dire questo a fare questo piccolo spoiler comunque si verrà introdotta nella versione 1.2 un sistema di auto dialogue dove si avrà la possibilità appunto di far scorrere il dialogo in maniera automatica ovviamente il dialogo impostato in automatico si stopperà soltanto nel momento in cui il nostro traveler quindi il nostro protagonista dovrà dare delle risposte e poi successivamente riprenderà a funzionare in maniera automatica devo dire che questa cosa in realtà mi fa comodo da un lato però da un lato mi diciamo mi preoccupa perché non vorrei che mettessero comunque un auto un auto dialogue con addirittura un auto skip è vero che solitamente io quando faccio side quest o quando gioco in live vado avanti con i dialoghi ma li leggo cioè io riesco fortunatamente a leggere l'inglese abbastanza velocemente lo riesco anche a parlare in maniera abbastanza corretto quindi a me viene praticamente automatico leggere in velocità tutti quelli che sono i dialoghi e non ho fondamentalmente il problema di avere un auto play button però capisco che comunque premere in continuazione il tasto x o comunque premere in continuazione il tasto per andare avanti può creare effettivamente dei problemi e quindi sono abbastanza a favore anche di questa cosa domanda numero 7 vorrei avere la possibilità di recuperare i dialoghi che ho già completato in modo tale da poter rigodermi la storia anche a mio piacimento ecco questo è praticamente ciò che risolve il problema che ho detto poco fa perché se per distrazione o per in generale problemi legati a qualsiasi cosa si ha la possibilità di avere comunque un archivio come la maggior parte dei giochi di ruolo o comunque come la maggior parte dei giochi in generale avere comunque una sorta di diario personale dove poter recuperare tutte le informazioni disponibili quindi questo già effettivamente è molto più comodo infatti nella versione 1.2 verrà aggiunta una sezione al traveler log che sarà appunto una sorta di archivio tutti i dialoghi sia quelli testuali che quelli audio che precedentemente sono stati completati avranno la possibilità di essere rivisitati o comunque rivisti in generale e questa già è una forma di aiuto non indifferente soprattutto per chi magari dopo aver giocato in maniera più veracea il gioco adesso si può godere o comunque si vuole godere effettivamente la storia ed è anche una buona scusa magari per fare una sorta di film di Genshin Impact quindi registrare in modo continuato tutta la storia per poi riproporla magari su YouTube in un formato diverso o in un formato un po' più godibile per chi magari non ha avuto la possibilità di poterlo giocare come Dio comanda quindi già questo è un ottimo un ottimo quality of life come lo oseremmo chiamare ultima pagina abbiamo la domanda numero 8 in co-op mode i progressi sono interrotti quando un giocatore lascia la partita questo può essere sistemato? bene gli sviluppatori rispondono i nostri amministratori hanno capito in maniera hanno ricevuto il messaggio forte e chiaro tutti quanti i giocatori all'interno della prossima versione chi e questo state state molto attenti questo bisogna fare molta attenzione bisogna fare attenzione perché ogni qualvolta si effettuerà una modalità co-op nel momento in cui si è all'interno di un dungeon e che ne so è lost in quel momento o un altro giocatore che è all'interno della partita ha un problema e praticamente viene tra virgolette chiccato dalla partita ritornerà automaticamente in single player mode dopo che il team verrà diciamo disfatto quindi e poi successivamente il progresso di tutti i giocatori riprenderà da dove è stato lasciato quindi è una sorta comunque di protezione che si fa all'interno del team permettendo comunque di completare quello che è il dungeon anche in single player magari con gli stessi personaggi che si stavano utilizzando prima quindi anche durante le co-op o comunque durante il nostro svolgimento di un qualsiasi gameplay avremo comunque la possibilità di poter completare il tutto e poi successivamente quando il team verrà disfatto si ritornerà automaticamente nella modalità singola diciamo che questa è una forma di protezione soprattutto per chi nelle modalità multiplayer entrava e faceva comunque anche il troll possibilmente facendo perdere tempo fondamentalmente anche chi voleva fare delle co-op in modo più pacifico e in modo più tranquillo quindi devo ammettere che questa soluzione secondo me può essere utile però ripeto non lo so bisognerà vedere effettivamente come verrà sistemata questa cosa perché potrebbe anche essere un escamotage almeno se ho capito bene come hanno intenzione di farla funzionare potrebbe essere un escamotage anche per far entrare i personaggi magari buoni all'interno del dungeon e nel momento in cui sono dentro chiccare tutti e sfruttare comunque dei personaggi buoni per prendersi delle ricompense è vero che potrebbero farlo tutti con tutti quindi ognuno avrebbe la possibilità poi di avere delle ricompense ma così comunque si leverebbe anche parte del piacere delle co-op quindi spero di aver capito male il suo funzionamento però vedremo poi comunque come verrà ampliata questa situazione e poi infine ultimo ma non per importanza abbiamo un nuovo metodo di sviluppo dei personaggi che permetterà delle ricompense a tutti quanti i giocatori che cosa vuol dire questo? che dalla versione 1.2 tutti i giocatori verranno ricompensati con un Aquant Fate ovvero una orb di quella blu quindi non quella diciamo rainbow che viene utilizzata per le summon in generale degli eventi ma quelle per il banner permanente quindi quelle blu ogni qualvolta ascenderanno un personaggio a livello 20, 50 o 70 inoltre per tutti i giocatori che hanno già effettuato precedentemente l'ascensione dei propri personaggi avranno la possibilità di recuperare i propri Aquafaint all'interno del menu di ascensione del personaggio ecco una piccola preview di quello appunto che sarà il nuovo sistema di evoluzione dei personaggi quindi si avrà la possibilità di poter portare il personaggio a un livello di ascensione superiore e come potete vedere nel momento in cui si effettuerà l'ascensione si avrà la possibilità di ottenere una addirittura Aquafaint che devo ammettere essere molto molto figa come cosa quindi ottimo presupposto anche per portare su i personaggi magari senza anche utilizzarli portarli su soltanto appunto per ottenere le sfere cosa che comunque penso che io in primis farò all'interno del gioco perché ogni 10 personaggi che porti su comunque una multi e sinceramente una multi gratis fatta così non è affatto male soprattutto per aumentare il pity rate e tentare poi di ottenere qualche cosa di interessante detto questo io spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti e che cosa ne pensate in generale di ciò che sta ovviamente di ciò che sta passando comunque il gioco in questo sviluppo soprattutto dal punto di vista della quality of life come viene chiamata all'interno dei giochi di ruolo perché a mio avviso tutti questi nuovi miglioramenti saranno un'ottima figata soprattutto quelli di dungeon per formare gli artefatti sarà veramente un qualcosa di stupendo quindi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti ovviamente vi ricordo che mi potete trovare in live spesso e volentieri sia qui su youtube che sul mio canale twitch solitamente a partire dalle ore 21 non ovviamente tutti i giorni però spesso e volentieri ci divertiamo anche tutti quanti insieme su Genshin Impact detto questo vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi aspetto alla prossima bye bye ciao ciao ciao